Nato MVP di questa partita con una prestazione di assoluto livello, bella lube e buon ritorno in forma anche per te. Sì, guarda, sono molto contento per la squadra perché abbiamo giocato, secondo me, una buonissima partita contro una squadra che sta attraversando un buon momento di forma, quindi siamo stati molto bravi ad entrare con l'atteggiamento giusto che è quello che ci chiede sempre il coach e quindi questo, abbinato alla tecnica, siamo stati, non so, è un buon banco di prova per quello che ci aspetterà sabato e domenica. Una lube ancora sul pezzo come a Modena stasera, poco fallosi e molto concentrati. Sì, guarda, questo penso sia la cosa più positiva di questa sera perché siamo rimasti concentrati tutta la partita, tutti i fini set che a volte ci capita magari di giocare benissimo fino al 20, 22, 23 e poi dopo magari caliamo un po' di concentrazione. Quest'oggi siamo stati molto bravi a non lasciare cadere nessuna palla e quindi penso che sia tanto merito nostro e speriamo di continuare così. Hai lavorato molto duramente, a che punto sei Simone adesso? Ho lavorato come dovevo lavorare, ho lavorato assi duramente come tutta la squadra, tutti i ragazzi, ho passato un momento abbastanza difficile però spero di averlo passato e di continuare fino a fine stagione come questa sera. Possiamo dire che la lube arriva comunque bene a questa Final Four di Coppa Italia, no? Il periodo difficile alle spalle e la squadra sta ritrovando il gioco d'inizio stagione. Guarda, ce lo direte lunedì, noi ce la stiamo mettendo veramente tutta per arrivare in forma sia tecnicamente che mentalmente a questo appuntamento perché per noi è molto molto importante portare a casa questo trofeo, sappiamo che ci sono altre tre squadre molto forti e quindi dobbiamo cercare di giocare al 100% sia dal punto di vista mentale che tecnico. Grazie.